In diretta, trasmettiamo la preghiera nel mese dedicato a tutti i fedeli defunti. Conduce la preghiera fra Giovanni aiutato dalla gioventù francescana. Oggi 3 novembre in questa preghiera quotidiana dedicata a tutti i fedeli defunti nel mese di novembre ricordiamo in questa preghiera quotidiana tutti i defunti dell'ordine francescano. Preghiera quotidiana in suffragio dei nostri cari defunti, condotta da Fra Giovanni e dalla gioventù francescana. Grazie a tutti. Vi offriamo, o Eterno Padre, Padre delle Misericordie, per le anime di questa famiglia a voi tanto cara e per le anime del Purgatorio, il sangue preziosissimo uscito dal piede sinistro di Gesù vostro Figlio, nostro Salvatore, e il dolore di Maria, sua Madre amatissima, presente al Calvario. Vi offriamo, o Eterno Padre, Padre delle Misericordie, per le anime di questa famiglia a voi tanto cara e per le anime del Purgatorio, il sangue preziosissimo uscito dal piede destro di Gesù vostro Figlio, nostro Salvatore, e il dolore di Maria, sua Madre affettuosissima, presente al Calvario. Calvario. L'Eterno Riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. Vi offriamo, Eterno Padre, Padre delle Misericordie, per le anime di questa famiglia a voi tanto cara e per le anime del Purgatorio, il sangue preziosissimo uscito dalla mano sinistra di Gesù vostro Figlio e il dolore di Maria, sua Madre dolcissima, spettatrice addolorata sul Calvario. L'Eterno Riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. Vi offriamo, O Eterno Padre, Padre delle Misericordie, per le anime di questa famiglia a voi tanto cara e per tutte le anime del Purgatorio, il sangue preziosissimo uscito dalla mano destra piegata di Gesù vostro Figlio, nostro Salvatore, e il dolore di Maria, sua Madre dilettissima, spettatrice addolorata sul Calvario. L'Eterno Riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. Vi offriamo, O Eterno Padre, Padre delle Misericordie, per le anime di questa famiglia a voi tanto cara e per tutte le anime del Purgatorio, il sangue preziosissimo e l'acqua uscita dall'aperto costato di Gesù vostro Figlio, nostro Salvatore, e il dolore di Maria, sua Madre amorosissima, presente sul Calvario nel momento di questa apertura. L'Eterno Riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. Grazie a tutti.